Mi sono già espresso, purtroppo, ho detto che è una cosa indegna, il fatto che non lascio di giocare questi ragazzi, solamente per il fatto che sono tutti, perché posso capire o cercare di capire una cosa del genere se fosse la nazionale, se fossero i piedi, se fosse la Coppa dei Dolors rappresentano ufficialmente, io quando vado a Parigi, sono un cittadino dell'Italia, non è che sono in Italia, o a Benevento, o piuttosto che a Mosca, per cui provo quindi, è un po' benedirissimo, per quale motivo con due giocatori, due tennis, che fanno il loro mestiere, di chi partecipano anche al più prestigioso torneo del mondo, con una nuvissima tradizione, e quant'altro, non possono fare il loro mestiere. Poi mi si dice, sai, c'è il fatto che se per caso di ci sono uno di loro due, la famiglia reali sarebbe imbalanzata a primavera, e ce ne faremo una ragione. Ho intorno e finisco, ho cominciato. A Roma, a Roma, a tantissimi atti con me, a parte, a parte a Montecato, a lui c'è qui c'è Roberto, che premia il primo 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 primo, sono tutti gli ex campioni che premiano i campioni che vengono il torneo, per cui, io credo, io non avrei tolimelo, ma se avessi vinto winelo, sarei stato molto più felice di essere premiato da Rob Lever, piuttosto che la duchessa di Kemp. Grazie.